Chi arriva e chi se ne va? Presidente Boldi, lei all'esordio, la prima manifestazione al Centro Affari, la città dei Scittini e poi Superfuglia. Sì, in realtà è la seconda perché anche a Bitarra, anche se un po' surrettiziamente sono arrivato proprio. No, sicuramente è un'iniziativa di buon auspicio, molto bella, molto allegra e che darà sicuramente grande gioia a tutto il territorio perché la possibilità di vedere i bambini di Arezzo a fare, come dicevamo prima, i cittini di Arezzo a fare una bella giornata con i propri genitori o i propri nonni sarà sicuramente una cosa che apre il cuore. Quindi spero che sia di buon auspicio per poi la parte un po' più complessa che dobbiamo affrontare in seguito. Direttore Barbieri, lei invece che ha voluto questa manifestazione, pur essendo del nord Italia ma ha imparato cosa significa cittino, e invece ci lascia. Da lunedì non ci sarà più con noi. Le dispiace un po'? Beh, certo che mi dispiace, mancherebbe. Sono stati quattro anni e mezzo quasi dove sono stato molto bene. Poi la vita, si fanno delle scelte e sono arrivato a delle proposte interessanti. Ho deciso di, chi fa il mio lavoro, chiaramente ogni quattro o cinque anni deve valutare delle cose. Però alla fine rimane un'esperienza, adesso non vorrei sembrare scontato, ma probabilmente è la più bella dal punto di vista professionale e umano delle esperienze che ho fatto. Spero, vi faccio un augurio per il futuro e che quantomeno possa essere così. Senta, oltre 60 espositori fra la città di Cittini e Superfood, in vetrina tutte le eccellenze del nostro territorio. E' una cosa alla quale gli aretini sicuramente, ma anche dalle altre province.